Leonardo Silva Revisoree Perché, in una calda giornata d'estate, il nostro cono gelato si scioglie? Beh, perché il calore tende a fluire dall'ambiente esterno, che è caldo, al nostro cogenerato, che è freddo, e lo scioglie. Questo è il secondo principio della termodinamica. Vedete, la fisica vuole descrivere i fenomeni che noi esperiamo tutti i giorni, ma non solo. Vi ricordate Gravity? È il film con George Clooney e Sandra Bullock. Nel momento in cui il malcapitato Capitano Kowalski si stacca dalla navicella spaziale perché si rompe il cavo, beh, in quel momento lui è destinato a disperdersi nello spazio interplanetario. e questo perché? Perché in assenza di forze, quindi anche di attriti, come nello spazio, un corpo, quando è in un stato di moto, permane in quello stato di moto rettilineo ed in forme indefinitamente. Ed è questo quello che, condanna il Capitano Kowalski, assicura morte. E non è altro che il primo principio della dinamica. Le leggi della fisica, e la fisica in generale, creano dei modelli. I modelli servono per descrivere quello che accade. Ma la bellezza di questa cosa è che ogni tanto i modelli hanno carattere predittivo, ovvero sia riescono a prevedere dei fenomeni che non abbiamo ancora osservato. Questo signore qui è Franco Pacini. Era un astrofisico italiano che ha diretto l'Osservatorio Astronomico di Arcetri, vicino Firenze, per oltre vent'anni, fino al 2001. E lui ci fornisce un grandioso esempio della capacità predittiva della fisica. Ed è un esempio che a me è particolarmente caro perché è molto vicino a ciò di cui io mi occupo tutti i giorni. Franco Pacini previde l'esistenza delle pulsar. Cosa sono le pulsar? Avete presente quei fari sulle coste che durante la notte, con le loro luci pulsanti, fungono da riferimento per le navi? Beh, immaginate dei fari nel cosmo. Adesso cerchiamo di immaginarci la materia più densa che possa esistere all'universo. Ed ora mettiamo insieme i fari nel cosmo e la materia più densa dell'universo. Ecco, queste sono le pulsar. Sono degli oggetti straordinari. Un cucchiaino del materiale di cui è fatta una pulsar pesa centinaia di miliardi di chili. Ma sono oggetti abbastanza piccoli. Se ne potessimo appoggiare una sulla superficie terrestre, non occuperebbe più della superficie della città di Roma. eppure peserebbe una volta e mezzo il peso del sole. La Terra quanto tempo ci mette a ruotare intorno al proprio asse? Un giorno, questi oggetti ruotano attorno al proprio asse, svariate centinaia di volte al secondo. Beh, Pacini prevede l'esistenza di questi oggetti e le loro caratteristiche fondamentali con un articolo che pubblicò nel 1967. E il fatto volle che alcuni mesi dopo la pubblicazione di questo articolo due astronomi britannici, Jocelyn Bell e Anthony Hewish, per caso, durante le loro osservazioni astronomiche, identificarono quegli oggetti. Questa che vedete è una pulsar molto famosa. La pulsar è il puntolino luminoso in centro a questa immagine. È la pulsar del granchio che si trova al centro di questa bellissima nebulosa, la nebulosa del granchio. e Pacini previde l'esistenza di questa pulsar prima di qualsiasi osservazione diretta. Ma ritorniamo alla fisica. Allora, secondo la fisica moderna, esistono quattro forze fondamentali in natura. aria, acqua, terra e fuoco. Nessuno dice niente. Vi siete tutti addormentati. Sono noiosissima. No, non sono le quattro forze fondamentali in natura. Le quattro forze fondamentali in natura sono la forza di gravità, la forza elettromagnetica e due forze di tipo nucleare. E io adesso mi voglio concentrare sulla forza di gravità. La forza di gravità è la forza attrattiva tra le masse. È la forza che ci tiene attaccati al suolo, è la forza che fa cadere le mele dagli alberi, ma è anche la forza che fa girare la Luna intorno alla Terra e la Terra intorno al Sole. ed infatti è stata proprio questa geniale intuizione di Newton a spiegarci che in realtà questi due fenomeni apparentemente così diversi, la mela che cade dall'albero e il moto planetario, sono tutti e due dovuti alla stessa causa, la forza di gravità. Ma la teoria moderna della gravità non è la gravità di Newton. È la teoria della relatività generale di Albert Einstein. E cos'ha di particolare la teoria della relatività generale? Beh, immaginiamo uno spazio-tempo che abbia delle curvature. Le masse creano nel loro intorno degli avvallamenti, una curvatura in cui le altre masse tendono a cadere. Quindi le forze attrattive tra le masse vengono descritte dalla teoria della relatività generale come una curvatura dello spazio-tempo. La teoria della relatività generale è una teoria incredibilmente elegante, ma ha delle applicazioni pratiche. Chi di voi, nelle ultime 24 ore, ha usato una delle applicazioni che si trovano oggigiorno su tutti i nostri telefoni cellulari, che vi ha permesso di raggiungere una destinazione o un particolare indirizzo? Beh, questi sistemi di navigazione non potrebbero funzionare affatto, ve lo garantisco, senza la teoria della relatività generale. Una delle conseguenze fondamentali di questa teoria sono le onde gravitazionali. E per fondamentale intendo dire che se la teoria è giusta, le onde gravitazionali debbono esistere. E che cosa sono? Sono delle increspature dello spazio-tempo che viaggiano alla velocità della luce. E sono prodotte ogni qualvolta delle masse si muovono. In questo momento sto mettendo onde gravitazionali. Infatti, a dire il vero, tutti noi adesso siamo immersi in un mare di onde gravitazionali. Ma sono così deboli, impercettibili, che è assolutamente impossibile rilevarle a questo livello. Per rilevare le onde gravitazionali ci servono dei segnali molto più forti. Ci servono dei segnali che sono emessi da masse che si muovono molto velocemente, masse molto compatte e comunque molto pesanti. Per esempio, due buchi neri che negli ultimi istanti della loro vita spiraluggiano l'uno attorno all'altro sempre più velocemente in un ultimo waltzer fino a fondersi in un unico butoco nero. Il segnale di onde gravitazionali che questo fenomeno ha emesso viaggia attraverso il cosmo per miliardi di anni indisturbato. codificate all'interno della forma d'onda le informazioni su quest'ultimo waltzer che le ha generate. Questo è importante perché i buchi neri non emettono luce e quindi le onde gravitazionali sono gli unici messaggeri di quello che accade loro. Qual è l'effetto delle onde gravitazionali? Come si fanno a rilevare? Beh, le onde gravitazionali stiracchiano e comprimono gli oggetti che attraversano. Un po' come queste onde gravitazionali che stanno arrivando sulla Terra, ma non vi dovete preoccupare, qui l'effetto è amplificato in modo assolutamente irreale semplicemente per illustrarlo. su un'antenna gravitazionale che è qui fotografata e che ha due bracci, ognuno dei quali è lungo 4 km, gli stiracchiamenti e le compressioni indotte dalle onde gravitazionali riammontano a un milionesimo di milionesimo di metri. ovvero sia una variazione di lunghezza che è più piccola delle dimensioni di un atomo. ci ha voluto un team di più di mille scienziati che hanno lavorato per decenni per riuscire a rilevare questo segnale. Il 14 settembre del 2015 finalmente arriva un segnale chiaro. Seguono dei mesi di lavoro molto intenso per verificare la correttezza di questa misura, per documentare tutto e per scrivere un articolo scientifico che farà storia. E me la ricordo bene la conferenza stampa sei mesi più tardi a Washington, queste foto che vediamo sono prese da quell'evento in cui venne dato l'annuncio fu un'emozione indescrivibile. Tutto il mondo per un paio di giorni ha celebrato con noi il successo di questa avventura dell'intelletto umano. Un'avventura che era cominciata cento anni prima con Albert Einstein che aveva proposto la teoria della relatività generale e teorizzato per la prima volta l'esistenza delle onde gravitazionali era continuata con il lavoro degli astrofisici teorici che avevano previsto i particolari segnali emessi da certi fenomeni astrofisici e poi con gli ingegneri e i fisici che avevano dedicato la loro vita a cercare di rilevare il loro effimero e lievissimo passaggio fino ad identificarne l'origine e avevano vinto questa scommessa. Un anno e mezzo più tardi accompagnavamo i padri di questa scoperta a ritirare il premio Nobel a Stoccolma. Questi sono Barry Barish, Kip Thorne e Ray Weiss che rappresentano le tre anime di questo esperimento. il glorioso apparato sperimentale, l'astrofisica relativistica e la sinergia della big science che è necessario per metterlo tutto insieme e farlo funzionare. A questo punto generalmente mi viene detto tutto ciò è molto bello ma qual è l'utilità pratica di questa scoperta? E qui voglio essere assolutamente chiara per il momento questi segnali sono complicati abbastanza da misurare che delle applicazioni pratiche per noi con le onde gravitazionali ancora non esistono. Ma io sono sicura che come tutte le pietre miliari del progresso scientifico anche questa, le onde gravitazionali entreranno magari tra cent'anni nella nostra quotidianità così come adesso lo sono i navigatori sui nostri cellulari. Per ora quello che posso dirvi però è che questa ricerca che è durata vent'anni ha già avuto delle importanti ricadute tecnologiche. Per esempio, quando siamo su un aereo quanto è importante sapere che esistono delle tecnologie laser che permettono di verificare l'integrità strutturale dei composti di carbonio di cui è fatto l'aereo? Beh, questa è una delle ricadute della ricerca gravitazionale. La teoria madre dello spazio-tempo, se lascio correre la fantasia, non potrà che avere delle applicazioni fantascientifiche. Ma per ora le onde gravitazionali ci permettono di indagare una delle forze fondamentali in natura, la gravità. e come messaggeri dei fenomeni che le hanno generate aprono una nuova era, quella dell'astronomia gravitazionale che io sono sicura sarà ricca di rivoluzionari scoperte. Quindi vanno ad arricchire il patrimonio culturale dell'umanità. E com'è tale? La loro valenza prescinde dall'immediata e contingente applicazione pratica. Per me sono un po' come la Cappella Sestina o il Rinascimento italiano. Vi chiedereste mai qual è l'utilità pratica della Cappella Sestina? Ecco, per me è lo stesso per le onde gravitazionali.